Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Icaro Rubicone, proseguono le interviste ai candidati sindaci per le elezioni che si terranno il 25 maggio nel comune di Savignano sul Rubicone. E' qui con noi nei nostri studi oggi Mauro Frisoni, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Il candidato del Movimento 5 Stelle del Rubicone, 50 anni, sposato con tre figli, abitante a Savignano sul Rubicone al quartiere Cesare. Mauro Frisoni è insegnante di matematica e scienze presso la Scuola Media di San Mauro Pascoli, geologo appassionato di astronomia ed è presidente dell'Associazione Astrofili del Rubicone. Iniziamo subito dalla prima domanda. Quali sono, secondo lei, le due o tre priorità con cui un sindaco dovrebbe subito confrontarsi? Secondo noi la prima cosa è subito quella di instaurare un dialogo con i cittadini, cosa che negli ultimi anni non è mai venuta da parte di questa amministrazione. Soprattutto dialogare con i dipendenti comunali. Noi pensiamo che l'amministratore debba essere, oltre che una persona competente, anche avere delle buone capacità relazionali. La seconda cosa è quella di verificare bene il bilancio, i punti forti e i punti deboli di questo bilancio che fra l'altro questa amministrazione ancora non ha approvato e forse non approverà mai. E quindi scaricherà questa responsabilità sulla prossima amministrazione e verificare anche gli impegni assunti da questa amministrazione per vedere se rientrano nei nostri progetti. Venendo ad un argomento riguardante Piazza Borghesi, qual è la vostra intenzione? La riapertura al traffico oppure il mantenimento dello stato attuale della circolazione? Noi abbiamo già avuto modo di dire in un incontro che si è tenuto in Saragaleffi, organizzato dal COX, la nostra posizione. La nostra posizione è molto chiara. Noi siamo per la mobilità sostenibile, quindi noi siamo per la chiusura al traffico. Anzi, noi vorremmo chiudere l'intero centro storico, se fosse possibile. E questa della chiusura della piastra lo riteniamo un falso problema. So che i commercianti si sentono danneggiati, però qui bisogna rivedere alcune cose. Bisogna rivedere assolutamente la circolazione, i parcheggi, ma poi capire perché c'è questo degrado del centro storico. Noi abbiamo letto un documento che è stato redatto e curato dalla precedente amministrazione, si tratta del progetto di marketing territoriale. In questo progetto è stata fatta una indagine telefonica con i cittadini di Savignano ed è il risultato che non ha raggiunto la sufficienza il livello del digradimento delle vetrine del centro storico, delle merci vendute, della mancanza di promozione. Quindi occorre qui progettare proprio un marketing del centro storico e riteniamo che la piazza chiusa non sia un problema, anzi per noi è ancora più bella. Per quanto riguarda invece il tema immigrazione, come pensate di affrontare il tema dell'elevata percentuale di cittadini extracomunitari in città? Dunque, noi riguardo l'immigrazione diciamo che il problema dei flussi migratori lo riteniamo un problema che debba essere affrontato a livello nazionale. A livello locale noi abbiamo già avuto modo di dire, quando siamo usciti con la nostra prima presentazione, il 29 marzo alla vecchia pescheria e quando abbiamo presentato il nostro programma alla lista e si è presentato il candidato sindaco, noi abbiamo in quel momento stravolto un po' quella che era la linea politica anche delle altre liste. Fino a quel momento si delineava una figura di sindaco, cosiddetto sindaco sceriffo. ovvio che non è la linea che vogliamo portare avanti noi, abbiamo parlato di qualità della vita e per arrivare a ottenere questa migliore qualità della vita bisogna partire dalla coesione sociale e la coesione sociale significa mettere sullo stesso piano cittadini italiani e stranieri quindi curare tantissimo l'immigrazione e l'integrazione. C'è stato un incontro molto importante secondo noi quando abbiamo invitato l'assessora welfare del comune di Parma, la dottoressa Laura Rossi, è una serata molto bella e che si è tenuta in Sala Lenda e molto partecipata dove l'assessora welfare di Parma ha spiegato il modello di welfare di comunità. Noi pensiamo che questo modello possa essere in qualche modo anche ripercorso per Savignano perché partendo da questa coesione sociale possiamo arrivare anche a una maggiore percezione della sicurezza e soprattutto a una maggiore integrazione. Integrazione che deve avvenire e come? Deve avvenire con aiuti per le persone in difficoltà sia italiani che stranieri, questi aiuti devono essere sempre documentati dall'amministrazione ma ci deve essere una sorta di restituzione, cioè i cittadini che vengono in qualche modo aiutati devono restituire alla comunità quello che ricevono attraverso dei lavori socialmente utili. Certo, per concludere ci può indicare una cosa a suo parere ben fatta ed una invece magari totalmente errata dell'amministrazione uscente? Dunque, per quanto riguarda una cosa che non è stata fatta male da parte dell'amministrazione direi soprattutto l'abbandono agli investimenti sulla cultura. Noi pensiamo che la cultura bisogna fare degli investimenti perché lo diciamo sempre, ogni euro investito nella cultura c'è un ritorno di 4 euro in termini di turismo ad esempio e di recupero soprattutto degli aspetti artistici e culturali della nostra città. Quindi noi contiamo di investire tantissimo nella cultura per quello che ci sarà possibile in base al bilancio che avremo a disposizione. Una cosa diciamo buona di questa amministrazione è che, lo dico sono qui un po' cattivo però finisce questo mandato finalmente perché bisogna lasciare spazio secondo noi a persone con idee fresche con idee nuove. Chiunque governerà, se saremo noi o anche in altre liste gli auguriamo di portare avanti delle cose innovative per Savignano perché questa amministrazione ci ha lasciato veramente nel degrado. Grazie, la ringraziamo per la disponibilità e invitiamo tutti i cittadini alle elezioni comunali che si terranno appunto il 25 maggio e diamo un appuntamento a tutti gli ascoltatori di Radio Icaro con le prossime interviste. Arrivederci, grazie. A 10, grazie.